L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale dei rappresentanti di Confcommercio nell'ambito della discussione congiunta della risoluzione 700381 Squery, nuova formulazione, e 700554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale ed energia elettrica. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Do la parola al Presidente Giovanni Acampora, membro di Giunta con incarico per la transizione ecologica e la sostenibilità, e successivamente al Dottor Paolo Masciocchi, responsabile del settore ambiente, utility e sicurezza, ricordando loro che hanno a disposizione in tutto dieci minuti. Grazie, a lei Presidente la parola. Grazie Presidente. Intanto dedico il Presidente per ringraziare vivamente la Commissione e il suo Presidente, quindi lei in particolare, per l'opportunità che ci sia offerta di poter esprimere il nostro punto di vista, quello molto produttivo, sul tema che è quello connesso al superamento della tutela di prezzo nella fornitura di energie elettriche e gas per imprese e famiglie, che riveste oggi più che meno l'importanza strategica per il nostro Paese e per i nostri aziende, e questo a maggior ragione soprattutto in una fase dedicata come quella del post pandemia. Una notazione preliminare, la liberalizzazione dei mercati è per noi un obiettivo condivisibile che deve essere sostenuto e perseguito con forza e determinazione. E sono infatti dal libero e consapevole confronto tra domanda e offerta che possono essere determinati prezzi finali, vantaggiosi e competitivi. In questa logica, per noi, che ci sia mostro nel corso di ultimi anni, il legislatore, che sin dalla legge del 4 agosto 2017, il numero 124, la cosiddetta legge di concorrenza, aveva già posto le condizioni per rendere operativo il passato dal mercato tutelato a quello libero. L'obiettivo, in specie, era proprio quello di operare o quantomeno favorire una contrazione progressiva ma sistematica della consistenza del servizio di maggior tutela e una corrispondente crescita del numero dei clienti riferimenti sul libero mercato. Da ultimo, proprio, la legge del 27 ebbraio 2021, la numero 21, prologando l'ingresso nel mercato libero al primo gennaio del 2021 per le piccole imprese e dal primo gennaio del 2023 per le piccole imprese, gli utenti domestici, si è rimossa proprio in questa direzione. Le motivazioni della proroga sono proprio da aggiungere all'esigenza assolutamente in modo vista della nostra confederazione. Vi garantirò l'ingresso nel mercato libero, consapevole, volontario da parte dei clienti finali. Fatte queste premesse, data per acquisita, come detto, la condivisione dell'obiettivo generale, il giungere alla piena di realizzazione del mercato energetico, il punto che a noi preme sottolineare in questa sede è quello di verificare infatti se vi siano oggi le condizioni per rendere effettivo tale rossato. Dal nostro punto di osservazione, rileviamo come da quale contesto dei mercati ritenere effettivo grado di qualità l'accesso al mercato, conseguito dai clienti di piccole dimensioni, indicano come ancora compiere alcuni importanti passaggi per poter raggiungere l'obiettivo individuato dal legislatore. Vediamo qualche dato. Dal lato della domanda, con riferimento ai clienti domestici nel 2020, circa il 56% di clienti è scelto di forniture sul mercato libero. Ciò significa che il servizio di tutela risulta la modalità di approvvigionamento per ancora circa 2,9 milioni di clienti fidati. Per quanto riguarda i clienti non domestici, ha notato che l'offerta è in libero mercato il 68% dei clienti, credo restando che circa 2,19 milioni di clienti sono ancora forniti nel servizio di maggior tutela. Mentre se lo guardiamo dal lato dell'offerta, in ordine a livello di concentrazione di mercato, seppure i dati indicano la presenza di un numero ancora molto costituito di operatori, l'82,5% del settore domestico è ancora rifornito da 5 operatori, Eder, Eder, Acer, Eder, A2A, di cui uno Enel serve circa il 67% di energia consumata, mentre il secondo Enel serve sia per 6,4%. Per quanto riguarda le vendite ai clienti non domestici alimentati in bassa tensione, la quota dei primi 5 operatori, in ordine di rilevanza Enel, Eder, A2A, Edison e Eon è pari invece al 53,7% del totale. Tutti i dati che abbiamo esposto danno evidenza di un mercato ancora oggi non maturo e consoprevole e suggeriscono quindi la necessità di accompagnare questo passaggio definitivo al libero mercato con alcune condizioni che io oggi proverò sommessamente a nessuno. Minimiterò dell'evidenza solo dei punti che la nostra confederazione richiede priorità, rimandando poi a una metodica scritta una valutazione più articolata e più complessiva. Uno, potenziare gli strumenti di informazione dei clienti finali. Dal nostro punto di osservazione rileviamo come il mercato elettrico risulta spesso di difficile comprensione per le nostre imprese, che temono raggine e truffe da parte del produttore. Crediamo che sia assolutamente necessario accrescere la consapevolezza del cliente finale nell'ambito del rapporto con il venditore. Considerando che l'equestito è imprescindibile per l'afferruzione di un leader a mercato, qual è il luogo ordinario di approvigionamento dei clienti finali, è proprio la capacità del consumatore di valutare le diverse proposte contrattuali e i venditori che meglio soddisfano le proprie esigenze specifiche. Occorre quindi specifiche iniziative anche istituzionali, anzi soprattutto istituzionali, da accompagnare un piano certo e completo di comunicazione da qui a prossimi anni. Due, assicurare una vigilanza costante sulle varie fasi del passaggio di giro mercato. È necessario cioè garantire che gli operatori servano i milioni di nuovi clienti finali con tempestività e con adeguati livelli qualitativi del servizio, per esempio garantendo la corretta periciuscità nelle fatturazioni. Poi evidentemente al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle posizioni di promettura, soprattutto nei primi mesi di allogazione del servizio per i clienti finali precedentemente eserbiti il regime di tutela dei prezzi. Tre, bisogna ridurre il livello di concentrazione del mercato, così da favorire essi di concorrenziali delle procedure concorso ANAM per l'assegnazione del servizio di standard guard. Si potrebbe ad esempio immaginare di porre il limite massimo di clienti che in esito a legare possono essere assegnati ad uno stesso grado. Su questo punto riteniamo che possa favorire l'assetto concorrenziale del mercato energetico, l'accessazione obligatoria di quote di clienti serviti in maggior tutela da parte degli operatori dominanti di mercato. Inoltre concordiamo sulla necessità di introdurre specificità di trust per il servizio a tutela e graduale e il mercato tutelato, al fine di garantire ai soggetti fornitori di energia elettrica la parità di eccesso al mercato con conseguente riduzione di costo per i clienti finali. Quarto punto, porre il pregio di mettere l'attenzione particolare al tema del servizio a tutela e graduale, ossia quel servizio di ultima istanza previsto per i clienti che alla scadenza prevista dalla legislazione non abbiano ancora stipulato un contratto sul mercato. È necessario stipulare che il tale servizio si configuri come realmente di ultima istanza ed è solamente temporale, proprio per dare il tempo all'utente di trovare un fornitore, pur avendo però garantita la fornitura dell'evento. Occorrerà inoltre individuare specifici tetti antitrust per contenere la concentrazione di mercato da applicare anche alle future gare per l'assegnazione del servizio a tutela e graduale. E quindi istituire l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica aspetto parimenti fondamentali sia per l'educazione dei servizi in ultima istanza sia soprattutto per nominare l'assunzionamento del mercato del servizio è proprio la garanzia dell'affidabilità e della professionalità dei venditori che vi occupano. In tale ambito ha lo scopo di qualificare i venditori secondo regole più selettive e tutelare dunque i clienti finali. Concommerci la merito ancora una volta la necessità della preinquestiva istituzione dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica come previsto dalla stessa legge concorrenza. La l'elenco sarebbe utile per qualificare i venditori secondo regole più selettive e garantire dunque un'ulteriore importante forma di tutela dei clienti finali. Grazie. Grazie. Grazie Presidente Acampora. Mi sembrava volesse intervenire anche il Dottor Masciocchi. Ma guardi Presidente Acampora ha toccato diciamo tutti gli aspetti che per noi sono prioritari sui quali ribadisco che presenteremo una memoria più di dettaglio insomma nei prossimi nelle prossime ore. Forse ecco soltanto un aspetto ma più marginale volevo far presente è che è tutto il diciamo l'ambito di questa indagine è concentrato, è indirizzato, è limitato al quello che noi abbiamo calcolato solo il 40% del costo complessivo dell'energia perché è il diciamo l'ambito che corrisponde poi al prezzo delle utilities. Tutto il resto cioè il 60% è gestito, è determinato dagli owner generali di sistema laddove quindi il mercato non può intervenire in una dinamica prezzo e offerta e quindi laddove non può operare una diciamo una non si può operare una riduzione e una contrazione del prezzo. Ecco questo è un aspetto rilevante perché perché occorre anche tentare di intervenire in questa sede e con commercio certamente condivide le posizioni già espresse in altre sedi sia dall'ARERA che dall'autorità garante della concorrenza del mercato che hanno indicato appunto la via del trasferimento nella fiscalità generale degli oneri del sistema elettrico. Questo per una questione di equità ovviamente ma anche perché parlare di liberalizzazione del mercato elettrico e quindi di fine della tutela è tanto più necessario quanto è più utile quanto poi eh non vi sia una componente così rilevante circa il 60% che poi di fatto rende anelastica eh la domanda. Soltanto questa notazione eh aggiuntiva volevo volevo. Benissimo grazie allora do la parola all'onorevole Luca Squeri che è anche proponente di una risoluzione delle risoluzioni prego. Sentiamo. Onorevole Squeri ci sente? Pronto mi sentite? Ecco adesso adesso la sentiamo. Benissimo prego. Ok. Grazie Presidente ringrazio chi è intervenuto ma mi sembra di capire che ci sia sostanzialmente un giudizio positivo su diciamo eh una auspicata eh una auspicata arrivo al mercato più libero per solo una sensazione del mercato di tutte le altre. Ecco una domanda molto semplice. Secondo voi rispetto tanto se eh ho capito bene appunto qual è la vostra opinione e poi qual è tra i provvedimenti quello che ritenete più importante più necessario affinché questo possa avvenire nel migliore dei modi. Grazie. Grazie. Al momento non vedo altri colleghi che intendono intervenire. Eh chiedo se vuole rispondere il Presidente a Campo a Campora oppure ditemi voi Presidente benissimo allora do la parola al Presidente Giovanni a Campora prego. Grazie Presidente io ringrazio che non domandano le tre Squeri perché così eh tendo anche a ripetere con più precisione punti fermi che il Commercio intende perseguire. Ecco l'esperienza degli ultimi anni con le Squeri ci fa ritenere che non sia proprio più possibile protegerare per un altro gare oltre il primo gennaio duemilaventitete la fine del mercato operato per le microincrese e clienti domestici. Identificare per noi una data scelta per la liberazione è un atto necessario sia per gli operatori perché gli operatori potranno organizzare al meglio le prime strutture per poi rifornire un numero sempre più ampio di utenti sia per i consumatori finale che se correttamente informati potranno aggiorarsi di prezzi più concorrenziali. Quindi la nostra eh un'idea su cui si è abbastanza chiara e quindi mi fa piacere che lei l'abbia ribadita perché la posso evidenziare maggiormente. I dati proprio il nostro possesso suggerisco però la necessità come ho relazionato prima proprio di accompagnare questo processo con delle adeguate compagnie di sensibilizzazione e di informazione. Questo lo renderemo davvero utile. Occorrerà inoltre assicurare quella che noi riteriamo ancora più importante ma l'incidenza costante sulle varie fasi eh di questo passaggio. E vi chiediamo eh sempre scongiurati dei possibili effetti distorsivi della concorrenza. Spero vi aver chiedito ovviamente qual è la nostra posizione e la nostra confederazione. Grazie. Grazie. Non so se vuole intervenire e aggiungere qualcosa anche il dottor Masciocchi. Penso che il presidente sia stato assolutamente chiaro quindi va bene così. Bene. Allora se avete della documentazione che intendete trasmetterci noi eh la trasmettiamo ovviamente a tutti i colleghi eh è sempre utile per riuscire a elaborare bene poi la risoluzione finale. Eh sospendiamo il prima possibile. Benissimo. Grazie. Eh ringrazio i rappresentanti di Confcommercio. Buona giornata e sospendiamo per cinque minuti la seduta. Grazie. 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 L'ordine del giorno della seduta di Erna reca l'audizione informale dei rappresentanti di Confesercenti nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 700381 Squeri nuova riformulazione 700554 Davide Crippa recanti iniziative di competenza per agevolare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica in vista dell'uscita da regime di maggior tutela per micro imprese e clienti domestici. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Do la parola ad Angelo Spanò responsabile settore energia ricordando che ha a disposizione circa dieci minuti per il suo intervento. Grazie. Bene grazie, ringrazio a voi tutti, ringrazio per l'attenzione, ringrazio per l'opportunità per guidare a Confesercenti di esprimersi su un tema, questa della liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, che è un tema che affrontiamo a volte molti anni, abbiamo affrontato spesso in altre occasioni i confronti, abbiamo affrontato spesso in termini di regolazione con RERA, per cui ci fa piacere che questo tema venga posto sotto osservazione perché è un tema molto delicato e che interessa milioni di cittadini e migliaia di imprese, insomma, quindi è chiaro che questo tema è molto importante. Dico in premessa che abbiamo preparato un documento che vi verrà inviato, che verrà consegnato alla vostra attenzione, per cui insomma avrete anche la nostra posizione ufficiale in merito a questo tema. In merito ai due testi formulati che si sono posti all'ordine del giorno oggi, di una risoluzione parlamentare che si sono posta all'ordine del giorno, noi facciamo questo tipo di valutazione, noi crediamo, credo insomma si possono evincere, insomma, dagli documenti che partono entrambi da un'analisi comune, no? Che è una forte preoccupazione rispetto al percorso del mercato libero dell'energia. Ecco, rispetto a quel percorso penso che avendo questa analisi comune auspichiamo, se possibile, insomma, magari che sia utile, magari se fosse possibile un'unica risoluzione che porterebbe, insomma, credo anche ad aspetti più chiari, ma questo compete naturalmente a voi, credo che la nostra può essere solo un auspicio in tal senso. Prima di entrare nel merito rispetto al documento che abbiamo, vi permetto di fare due o tre valutazioni sullo stato di situazione, insomma, sui dati che abbiamo, su quelli che vediamo di Arera, credo che sia una conoscenza di tutti, ma insomma, sono nostre considerazioni. La prima è questa, in merito al settore domestico, è evidente che è un mercato che sta andando molto piano, insomma, affronta il mercato libero in maniera abbastanza lentamente, insomma. Mi sembra di poter dire, dai dati che abbiamo ufficiati nella relazione annuale di Arera, che il 2019 ha un po', insomma, dà segni di un'accelerata, insomma, mi sembra che il passaggio sia stato più numeroso e quindi molti più utenze domestiche sono passate al mercato libero. Una mia valutazione è questa, se il 2020, continuato con il trend del 2019, probabilmente oggi si può stimare in circa 15 milioni le utenze che rimangono nel mercato dell'utela, che è sempre un numero grande, enorme, molto importante, ma è chiaro che il numero, insomma, in continua diminuzione, quindi massima intenzione, però se il trend è quello, vedo un po' di riflessioni che hanno fatto, insomma, e per questo valutiamo positivamente il dato del 2019. Mentre per il mercato non domestico, insomma, per il mercato riguardante le imprese, quelle che più ci riguardano direttamente noi, mi sembra che lì ci sia più consapevolezza, più, insomma, si conosce meglio, insomma, il mercato, si conoscono quali sono le opportunità e il fatto che più di due terzi siano trasformicate nel mercato libero fa comprendere come le imprese si sono attrezzate meglio, più affiancate, insomma, anche il ruolo dell'associazione di impresa ha avuto un suo ruolo in questo. Noi stessi siamo organizzati in più consorzi, insomma, territoriali per affiancare e aiutare le imprese a fare una scelta consapevole dei fornitori delle offerte che ci sono sul mercato libero delle energie. Seconda questione, che riguarda molto più il mercato domestico, mi sembra che lì ci sia una posizione dominante, fatte sicuramente da Enel, ma anche con altri fornitori, insomma, si arriva a una situazione di controllo che è circa l'80%, insomma, quella è una situazione che, insomma, probabilmente il mercato libero ha scarsito poco, insomma, su questo servirebbe, insomma, poi lo riprendiamo anche nel documento nostro, servirebbe una riflessione un po' più ampia, un po' più dettagliata su questa questione, insomma, certamente parlare del mercato libero è una situazione così, è un po' difficile, insomma, ecco. Terza questione, terza valutazione che facciamo, insomma, sui dati. Credo di poter dire che in questi anni si è creato un disallineamento molto forte tra offerte e domanda, mentre l'offerta è aumentata in maniera sensibile, no? Si parla di più di, insomma, 720 i fornitori di energia, insomma, sono un numero, insomma, in un mercato come quello nazionale, come quello italiano, l'uscita del mercato libero invece ha seguito un trend che è molto più lento della nascita delle imprese. Per fare un conto, in qualche modo, anche un po' così, un po' molto semplice, 6-15 milioni che io stimo di utenti, che sono rimasti nel mercato dell'hotel da parte, insomma, del settore domestico, fossero suddivisi dai 700 e 20, insomma, fornitori, si avrebbero passato di circa 20 mila utenze a testa, sarebbe un numero veramente ridottissimo che tutti potrebbero gestire tranquillamente. Certamente sappiamo che non è così, non sono i fornitori tutti uguali, non sono tutte attrezzate allo stesso modo, non tutti i fornitori, il cliente, non tutti i domessi, sono a conoscenza delle offerte, quindi è solo una, come dire, un calcolo matematico, un calcolo aritmetico, non è certamente quello che può avvenire, quello che può avvenire nel mercato, insomma. Sarebbe ospicabile una cosa di questo tipo, quello sì che si potrebbe configurare come una vera concorrenza, un vero mercato libero, ma probabilmente non è quello che starà succedendo. Bene, su altre questioni che riprendiamo anche nel documento, intanto voglio dire una cosa, sul tema del rinvi dell'entrata in vigore, insomma, del rinvi obbligatorio all'uscita del mercato di tutela, è chiaro che di fronte a questi numeri, tutti ci rendiamo conto come sono numeri, i rinvi sono necessari, se pronti ad affrontare il mercato, quindi i rinvi che sono stati fatti in questi anni, sono necessari, sono lì, è giusto che siano stati fatti, insomma. Credo anche di poter dire, è certo questo rinvi, qualche confusione, un po' di comprensione, di incomprensione tra i consumatori, c'è stata, insomma, è normale che questa cosa succeda, ancora oggi, con una discussione, con una rinvi questa cosa un po' da poche certezze, insomma, che quindi questa cosa, pur necessaria, ripeto, pur comprendendo i reali motivi di questa cosa, che noi stessi riteniamo necessaria, insomma, un po' di incomprensioni, l'Iprea. Bene, per quanto riguarda il nostro documento, noi intanto esprimiamo, condividiamo il percorso che si è fatto, lo mettiamo anche per iscritto, lo vedo sia per il livello parlamentare che per quello che riguarda Rera. E anche per quanto riguarda il ruolo di Rera, e con una tutella graduale, accompagna le imprese verso il mercato libero, non ci sembra che siano scelte che abbiamo condivise, che abbiamo partecipato anche nella costruzione, quindi sono cose che pensiamo che si possono condividere. Rileviamo, se dobbiamo dire, una cosa che rileviamo spesso. Nel nostro paese si è partiti, penso anche, forse mai molti anni fa, in maniera molto sparata nel campo delle informazioni, cioè un'informazione che circolava neanche velocemente e il mercato libero era quasi atteso da parte dei consumatori. Oggi probabilmente questa attenzione è un po' calata. C'è un'aggressione continua da parte dei call center, che io veramente, adesso questo è un tema di altre questioni, però non si capisce come può procedere, come si può procedere al fatto che spesso i consumatori sono sediati da queste telefonate, insomma, quasi un po', più che quotidiane, insomma, anche più volte al giorno, ma questo, ripeto, fosse un altro tema, e questa cosa, insomma, crea un po' di sconcerto, insomma, non credo che aiuti, insomma, una visione telefonica che non è ancora credo che sia stata ben accettata. Ovviamente bisogna avere anche un dato su questo, è un dato che bisogna capire qual è il cambio che avviene direttamente con un cambio consapevole rispetto alle pressioni che avvengono telefoniche. Su questo vi dico che chiedere una maggiore informazione, un maggior coinvolgimento, credo che sia il minimo. Proprio in questi giorni a Rera si sta coinvolgendo per la seconda campagna di informazione. Naturalmente noi come situazione abbiamo per la nostra disponibilità. domani c'è un altro incontro su questo tema, c'è già la nostra disponibilità da subito come inizio e quindi certamente condividiamo le cose, condivideremo assieme le cose che dovevamo dire. Poi, non so che punto sono col tema, ma non volevo neanche sellarvi. Un'altra cosa che voglio segnalarvi è questo, ma credo che sia, sono due o tre cose che voglio segnalare. La prima, sul portale offerta, noi abbiamo spesso sento un dirci molto positivo. Devo dire che per un utente non molto esperto e poco manovrabile, però è anche vero che è uno strumento eccezionale, insomma, ma chiunque può metterseli a contatto e valutare l'afferta che c'è sul libero mercato e quindi è una cosa che va bene, è un dirci positivo, che è il limite più potenziato. Come penso che vada potenziato anche il servizio di conciliazione che svolge ARERA? Cioè, il servizio di conciliazione che ARERA si impegna, che svolge in maniera, anche molto professionale, ha un limite, spesso ha tempi lunghi. Allora, quando ci sono tempi lunghi, poi alla fine i tempi lunghi si trasformano anche in incertezze. Questa cosa è dei tempi lunghi, insomma. In qualche modo la richiesta che facciamo qui, se si può fare, insomma, lo facciamo anche in sede ARERA è quella di potenziare quel servizio e quindi pensiamo che deve essere potenziato quel servizio, perché è un ottimo servizio, disposizione ai cittadini in maniera gratuita, però deve essere anche un po' più veloce. Ultima questione che vi voglio sollevare, e poi magari se c'è qualcosa da... su diversi punti continuati nel documento. In parte abbiamo già un po' sollevato. Vedo che, sollevato come notizia sul fatto del forte enfollamento dal lato offerta, sono aumentati molto i fornitori, mentre insomma dalla domanda si è molto più lenti. E allora ci chiediamo, si è analizzato bene questa cosa? Cioè questo disallenamento che c'è tra offerta e domanda, perché ci nascono così tante, come dire, c'è tanta offerta sul mercato, poca, insomma, poca, insomma, relativamente poca da parte della domanda, e se questa situazione, che dovrebbe quindi migliorare sensibilmente la concorrenza, invece in qualche modo la concorrenza è stata, insomma, appena scalfita, insomma, anche dai numeri che abbiamo di Arere, insomma, c'è una forte concentrazione nell'ora. E questo, credo che sia un dato che deve fare molto riflettere, non so se almeno dal lato di offerta, che forse non tutte le offerte sono al massimo, e quindi insomma andrebbero, i fornitori dovrebbero essere monitorati. Dall'altra parte, in canale naturale domanda, forse, poca chiarezza, insomma, poca consapevolezza, ma le più informazioni è quello che serve. In conclusione, vi dico qui, leggo, abbiamo scritto anche nel documento, credo che sia giusto e opportuna questa vostra operazione di riservatorio e vigilanza su quest'ultimo quindi pensiamo che sia un'azione molto condivisibile, perché c'è un mercato che va, credo, un mercato libero che va accompagnato, insomma, anche da parte vostra. Questo vi ringraziamo anche, questo vostro impegno. Grazie, dottor Spanò. Allora, non vedo nessun collega che intende intervenire, evidentemente è stato molto esaustivo, ma rimaniamo in attesa all'ora della documentazione di cui parlava, che ci sarà davvero molto utile, e la ringrazio per la sua esposizione. Grazie. Ringrazio Dio Mori. Buona notizia.